Il richiamo delle penne nere è stato irresistibile e così anche lo sceriffo di Treviso è tornato a sfilare tra gli alpini trevigiani. È una delle immagini del raduno triveneto delle penne nere che hanno pacificamente invaso Conegliano nello scorso fine settimana. Un abbraccio totale ad iniziare dal sabato sera, quando poco prima di mezzanotte alla sclinata degli alpini si sono date appuntamento tutte le fanfare per un unico e irripetibile inno nazionale. Poi l'emozione dell'alzabandiera di domenica mattina, alla presenza del governatore del Veneto e delle alte autorità civili e religiose. Poi per quattro ore sono sfilati gli oltre 18.000 alpini dal Trentino, dal Veneto e dal Friuli, con Gorizia che ha preso il testimone della donata triveneta del prossimo anno. Ma il momento più emozionante è stata la marcia di Cristiano Dal Pozzo, che a 102 anni non ha rinunciato al passaggio sulle sue gambe davanti alle autorità, per dimostrare, se c'era bisogno, come lo spirito alpino sia inossidabile al tempo che scorre. Cosa non ho visto con gli occhi?